Ciao ragazzi, posta di Babu Channel! Ormai abbiamo il nostro cartellino, quello gli farò una cornicetta perché è troppo carino il nostro loghino, mi fa tenerezza, mi fa ridere e altre letterine provenienti dall'evento di Cinecita World quasi quasi vi darei uno spoiler che mi sa che ci torniamo a fare un altro evento a Cinecita World ma non vi dico ancora quando cominciamo da questa letterina, intanto la letterina ce l'ha data gioia c'è scritto per Barbara, Lara e Lele, io seguo pure me contro te, Lilla, Corine, GPR e Erika Kawaii fantastici, hai dei gusti fantastici allora, siete le mie youtuber preferite e qui, tac, e toc oh che bello, ho fatto la letterina, lei proprio la busta se l'è creata da sola con la carta Zira questo è il Zinetta poi c'è Barbara LOL Lara LOL, quindi questa è la versione di Lara LOL con il cerchietto a unicorno poi c'è Lele LOL eccolo qua, questo è Lele che è diventato un LOL quanta fantasia avete io sono diventata una LOL pur io Barbarina LOL io ho l'onore di aver avuto le LOL customizzate da Trillona la conoscete? Trillona 87 che ha fatto le nostre LOL custom veramente stra top, troppo belle allora, qui invece c'è tre motivi per essere del tipi team uno, siete sempre allegri ci proviamo c'è Lollina, Alice, Punkboy e voi grazie, siete fantastici, grazie allora, Lollina apri? no, Lollina ha... che è un apri? Barbara, ben... 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 benvenuti benvenuti Lara, ecco e lei è la piccolina che dice benvenuti nel mio canale YouTube qui ci sono... eh, questo è un armadio di LOL guardate il nostro armadio è LOL LOL, ancora LOL LOL in effetti sì, siamo conciati abbastanza così e qui ci sono tutte le LOL messe per la casetta delle LOL spettacolo bellissimo bello quando ci immaginate all'opera invece qui c'è Beatrice guardate un po' allora per Lara e Barbara coriccione grazie Barbara e Lara per tutti i vostri video mi fanno divertire tantissimo posso essere salutata da Lollina? ah, ultima cosa posso diventare amica di Lara? certamente Lara, guarda vuole bene a tutti quanti voi vi voglio bene gli altri video ma Lollina eh, sei richiesta per i saluti eh, grazie, 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 grazie che bello quando scrivono che è il mio canale YouTube sì no, scrivono te che lo dici vabbè, che cambia fondamentalmente la stessa cosa no, fondamentalmente sottolineano il fatto che tu ti auto-eleggi proprietaria di questo canale e come sei pignola sì andiamo avanti Giulia De Vecchis ci ha fatto questa bella letterina questo foglio e allora c'è scritto ciao Barbara e Lara mi chiamo Giulia adoro tantissimo i vostri video salutatevi pure Alice e Lollina te le saluteremo Lollina ti saluta ti saluta Giulia grazie Giulia io saluto te eh, se potete aprire questa letterina in un video eccola qui lo sapete che ho aperto anche io un canale YouTube Lara mi può seguire adesso mi sta guarda mi sto guardando un video vostro però non so com'è il titolo del tuo canale ce lo dovevi scrivere mi sono tanto divertita Cinecittà World con voi spero, guarda è stato bellissimo perché a parte il il piccolo show che c'è stato nel teatro ma a parte lo shop con tutta la la fila di voi facevate la foto scambiavate le lol eccetera però è stato bellissimo perché vi ho incontrato anche dentro il parco quindi in ogni giostra c'era qualcuno che faceva ciao 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 era bellissimo quindi siete stati così carini e soprattutto voglio sottolineare una cosa che siete stati tutti quanti molto rispettosi cioè non c'è stato nessuno che ha invaso che ha preteso che si è arrabbiato che è stato a volte capita che ci seguono che magari chiedano cose in momenti non opportuni invece siete stati tutti quanti super educati super carini quindi è stato molto molto piacevole anche da parte nostra non siete stati mai invadenti quindi vi ringrazio tantissimo a voi e i vostri genitori perché vi stanno educando veramente bene e qui c'è il disegnino guarda che belle chissà chi le avrà fatte questa è una tua convinzione no ah qui c'è panchino vedete si vede sono la sagoma però si capisce dal testo che non ci voglio andare in quel negozio a fare la duplicazione mondiale di tutte le U e qui c'è l'olena pacchettino guardate quanta fantasia c'è su questo foglio già questo potrebbe essere una letterina da solo perché c'è di tutto cioè mi togli il collare no un sacco di U eccetera c'è scritto dalla bambina Lavinia e la bambina Emma di Martino quindi brindisi non so se è di brindisi o se è il cognome e guardate quante cosine ci sono qui dentro adesso ce le andiamo a vedere tutte c'è anche un vetto e c'è una spugnetta cos'è? cos'è? oh una spugnetta come una lol poi qui c'è un fogliettino lolina ciao benvenuti nel mio crani youtube poi qui c'è quest'altro da colorare Lara usa questo spazio come vuoi con le gambette dell'amore vedo perché non te la gambetta dell'amore poi qui c'è lolina è la regina di youtube lolina questo è proprio per te oh che bello è bellissimo si celebratemi mi sta bene questa corona mi sta divinamente tesoro c'è anche guarda qui ti hanno messo sul trono che meraviglia e qui c'è qualcuno che ti dice ti amo lolina era ora che qualcuno mi facesse questo disegno poi ciao mi allora qua ciao mi chiamo Emma ciao Lara e Barbara vuoi essere mia Lara vuoi essere mia amica certo che vuoi essere tua amica qui c'è scritto apri qua ci sono un po' di figurine ah le carde dei miei contro di chissà se le mancano a Lara adesso quando torna gliele faccio vedere adesso in questo momento eh non c'è poi qui c'è apri 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 poi qui c'è Natale con tutti i fiocchi di neve qua c'è Lara Barbara Lavinia quindi questo è un selfie con Babu abbiamo tutte la gambetta dell'amore sia Lara che lei io no qui c'è scritto l'olina che ha detto ho ordinato 100 lol e Alice che dice come 100 99 era il numero giusto e poi sono troppo buffe le vostre vetterine l'olina e qua c'è ancora noi un altro selfie con noi vi ricordate sempre hashtag selfie con Babu se volete metterlo nei social Lara Lavinia e Barbara che belle che ci hai fatto con i cornetti con le cose per Lele Lara e Barbara da Lavinia eccoci qua Barbara Lara e qui c'è la tv con Pikachu che dice pica e noi che diciamo che carino Pikachu poi qua c'è un cartellone cos'è? cos'è un collage sono Lavinia vi ho già scritto due volte ho sette anni e mezzo vi adoro siete le mie youtuber preferite posso essere salutata da Lollina Alice Punkboy guardate quanto è bello questo bacio no vabbè Lollina torni eh cosa c'è ancora? guarda il bacio ma che qua tutto tutto mi tengo tutto tutto guarda che aspetta c'è un altro pezzo e c'è qui un'altra cosa buffa no vabbè allora ci siamo noi c'era una volta c'era una volta due youtuber una mamma e una bambina di nome Barbara e Lara che sono dei youtuber molto brave e ogni giorno fanno video sono bellissime e danno la felicità fine grazie chichina e qua c'è me contro te anche tu sei una trottina allora apri 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 basta e poi qua c'è ragazzi oggi video di figurine e qui c'è praticamente Lara con sa che zira la maglietta delle trote e Lara che apre le figurine dei me contro te in un video siete spettacolari c'è Lara sarà felicissima di vedere questo disegno e di vedere come la rifate poi qui c'è Emma che ci ha fatto fashion l'olionette tutte quante poi qui ci sono aspettate che ci sono altri disegni questa è Dawn poi c'è ancora guardate quante cose ma ci avete messo chissà quanto tempo ve li faccio vedere tutti perché sono sicura che ci siete state un sacco a lavorare su questa letterina quindi è giusto che io vi faccia scorrere tutte le cose che avete fatto così anche da casa qui qua c'è Barbara che apre un pack surprise ciao oggi pack surprise l'olina che dice apri poi qua con altre foto c'è unicorna Barbara Lara anche noi seguiamo i me contro te ecco si trottine pure voi io lo so io ho capito che siete trottine come Lara qui c'è una gogo queen qui mi sbaglio sempre tra gogo girl e gogo queen ormai Lara mi prende sempre in giro poi c'è questo ho incontrato un unicorno qua le gambette felici c'è stella fa mai una gioia e poi qui ancora questo è un mega selfie con babù ci siamo noi Lavinia Emma con Alice e qua c'è Lollina ciao Lavinia Alice che carine che siete e poi qua c'è un altro foglio bellissimo gira il foglio e finisce più ragazzi ma quanta roba c'era in quel pacchettino l'avete messo a pressione e qui c'è ti amo Lollina ma anche voi anch'io dammelo tieni Lollina tieni si si tutto mio oggi si tutto tuo e ancora 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 l'ultimo disegno è questo qui Lara Barbara e Diva e c'è il tavolo con tutte le nostre doll grazie bellissimo no c'è un altro ho trovato un altro foglietto e c'è questo pezzettino di adesivo e Lavinia ha cominciato una Loll ha disegnato una Lollina tutta da sola siete state uniche grazie mille ma c'è un altro ma cos'è non è che lo sta sduplicando Alice questo pacchettino e qui c'è ancora Barbara io Lara Alice e Lollina grazie guardate guardate che spazio che occupa questa letterina sono milioni di foglie adesso li rimetto tutti a posto grazie 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 e poi abbiamo anche la letterina il disegnino di Priscilla guardate che carina la sua Lollina bello che l'hai messo nella plastica così non si rovina e di qua c'è 2019 da Priscilla e qui c'è quest'altro disegnino sei stata veramente super brava bene grazie per aver visto questa carellata di letterine quelle dell'evento di Scinecittà e noi ci continuiamo sempre a vedere qui sulla posta di Babu Channel ma anche nel mio canale Barbara D'Alessandro e adesso come sempre vi metto i bollini dei miei canali ma voi non cliccate su questi di carta cliccate su questi qui e iscrivetevi ai nostri canali e qui vi metto qualcosina da vedere dopo e vi dico come sempre un bacio a tutti quanti a tutti i nostri canali e qui vi metto i nostri canali e qui vi metto i nostri canali